Ok, un po' più in alto, un po' più in alto, un po' più in alto, un po' più in alto. Oh, bellissima ragazzi, la foto è pazzesca. Patato, sembra che stai girando un videotrap. Chi sei, Rondo da Sosa? Con il letto bianco ti ha chiamato. Con il letto bianco ti ha chiamato? E' uno slang per dire che stai chiamando il tuo plug. Che bello, amore. No, dico che bello, il quadro dietro di te è pazzesco, sarà del 1860, credo. No, dico che bello, il quadro dietro di te è pazzesco. No, dico che bello, è il quadro dietro di te è pazzesco. No, dico che bello, è il quadro dietro, è il quadro dietro. No, dico che bello, è il quadro dietro. Grazie a tutti.